se vuoi stare in contatto con tutti davvero senza limiti se vuoi lavorare con una libertà mai avuta prima se vuoi scegliere tu cosa è meglio per te se vuoi trasmettere le tue emozioni ovunque tu sia e se vuoi fare quello che non hai ancora immaginato se vuoi puoi Vodafone